Non sei sola, questo lo slogan scelto per diffondere i numeri per supportare le donne vittime di violenza. Si tratta di un volantino diffuso in questi giorni dal comune della città di Vigonza, un messaggio che riporta due mani che si stringono affinché nessuna donna resti da sola ad affrontare l'inferno della violenza. Per chi sta affrontando un momento complicato o di difficoltà, il comune e gli specialisti che collaborano con l'amministrazione sono a disposizione per ascoltare e aiutare chi si trova in difficoltà. A disposizione numerosi numeri telefonici per trovare supporto. Anche l'assessore al sociale Sabrina Boscaro è disponibile a ricevere con la sua estrema sensibilità.